Buongiorno, io sono Ligia Sorrentino, grazie. Sono molto contenta di essere qui e di condividere ancora con voi questa esperienza della poesia. Allora, vedo qualche ragazzo che ho conosciuto al liceo Macchiavelli, ringrazio vivamente la professoressa Caterina Conidi, che mi è stata molto vicina e mi ha dato la forza di entrare in questa classe e di vivere insieme ai ragazzi questa esperienza viva dell'adolescenza. Erano tutti giovanissimi, praticamente io mi trovavo di fronte a dei ragazzi giovanissimi e dovevo iniziare questo discorso per avvicinarli alla poesia. Naturalmente non è stato facile, ma abbiamo lavorato molto bene insieme perché la prima cosa che io mi sono occupata di fare insieme a loro è stata quella di costruire un luogo, uno spazio dentro il quale entrare. La costruzione di questo spazio è sempre circolare per me e i ragazzi lo sanno, a questo punto lo sanno anche gli insegnanti. C'è sempre una circolarità all'interno della quale ci muoveremo insieme. Questo perché? Perché mi interessava fargli sentire attraverso l'esperienza del corpo la circolarità della poesia, del gesto che compie la poesia sulla pagina che quasi sempre porta, a seconda poi ovviamente del tipo di poesia che si scrive, a questa forma, a questa forma circolare. Ma la forma circolare, che era quindi un luogo, era anche un modo per dividere questa esperienza, condividerla, lanciandosela proprio letteralmente dall'uno all'altro. Questa condizione del lanciarsi l'esperienza era dentro le parole che non erano necessariamente delle parole della mia poesia ma erano delle parole anche di altri poeti, a volte di scrittori. Abbiamo parlato per esempio di Bassani, abbiamo parlato del giardino dei Finsicontini, abbiamo parlato di questa poesia che Bassani introduce nel libro, che è una poesia di Emily Dickinson, Morì per la bellezza. Ecco, quella è stata un'esperienza meravigliosa anche per entrare nei fatti quotidiani della contemporaneità, no? degli ecidi a cui stiamo assistendo negli ultimi decenni, direi ventenni, dove popolazioni intere vengono decimate, sterminate. Ecco, il giardino dei Finsicontini, cioè il luogo dentro il quale Micol e Giorgio portano l'età della giovinezza e la racchiudono lì, è diventato il luogo simbolo per questo percorso che abbiamo compiuto insieme. Poi ho cercato, e quindi praticamente da questo simbolo, simbolico luogo, dove era concentrata l'età della giovinezza, siamo entrati. Siamo entrati cantando Dante, coralmente, abbiamo sentito il suon delle manconelle, perché spesso i ragazzi leggono Dante, ma non sanno cosa sono le manconelle. Quindi io ho cercato di fargli sentire i suoni portati dalla grande poesia, riconosciuta a livello mondiale. E poi la cosa importante è stato entrare nel senso della creazione che produce l'artista e quindi il poeta. Non è un senso in realtà, è proprio una determinazione della poesia. La poesia, come ogni arte, pone in essere una creazione. E per entrare in questa creazione siamo tornati a un luogo di origine. Ho chiesto a tutti quale fosse questo luogo di origine nella loro immaginazione. E qualcuno me l'ha detto, l'età dell'infanzia, quindi ancora prima di essere consapevoli, di essere venuti al mondo. E quindi i ragazzi sono entrati in questo suono, che è un canto. È un canto originario, che magari è il primo canto che si è ascoltato, che non ha a che fare in modo specifico con la poesia che si scriverà, ma col sentimento della poesia che si scriverà. E quindi abbiamo detto che la poesia è un luogo di origine, che ha un luogo molto determinato nella nostra, diciamo, infanzia. È un suono di culla, è un suono che ci accompagna nei momenti difficili e che quindi dà origine a questa necessità per il poeta di porre in essere la parola della poesia, che è sempre determinata da un luogo sacro della parola e dell'espressione poetica. Abbiamo lavorato col corpo, con i gesti, con la voce, moltissimo, per dare la possibilità ai ragazzi di sentirsi i protagonisti assoluti di questa esperienza. E infine io vorrei proprio vedere qual è stato il risultato di questa necessità che io ho cercato di insegnare, di dare a loro, che per me è la poesia, che è come un laccio che tutto racchiude nell'esperienza, che ci portiamo dal momento in cui nasciamo al momento in cui spariamo, proprio avvolti in questo cerchio ellittico che compie il percorso della poesia. Vorrei sentire i ragazzi, grazie. Buongiorno a tutti, siamo Giorgia e Eleonora dell'Iceo Linguistico Niccolò Machiavelli. Cara Luigia, oggi siamo qui a testimonianza dei nostri incontri, che hanno portato alla stesura di questa lettera. Prima di conoscerla, eravamo un po' intimoriti da quella che avrebbe potuto essere la sua proposta, poiché ci aspettavamo un'introduzione ostica dalla poesia. Il suo approccio e la sua presentazione, al contrario, sono stati semplici, coinvolgenti e spontanei. Durante le ore trascorse insieme, ha utilizzato più volte le parole verità, bellezza e libertà, parlandoci del valore civile della poesia, anche in relazione ai gravi episodi di cronaca dell'ultimo periodo. Nel mondo accadono fatti terribili, e per non perdere la speranza, dobbiamo cercare la nostra verità, nutrirci di bellezza, e cioè di poesia, d'arte, di musica, ma soprattutto dobbiamo dare valore alla libertà di essere noi stessi. Dobbiamo diventare cercatori di bellezza, imparare a riconoscerla, proteggerla, prima che questa appassisca come una rosa, e farla rinascere quando muore. La poesia è bellezza, la poesia è verità, la poesia può essere libertà, la poesia crea un ponte tra di noi e tra l'umano e il divino che c'è in ogni essere. La poesia, inoltre, rende eterno ciò che a noi è caro, e attraverso di essa, come Orfeo, possiamo provare a vincere la morte e a rendere eterno quello che amiamo. Perché? Ciò che crediamo perduto possiamo riaverlo, te l'ho già detto, spopolato, non scompare la fonte, tessa il suo divino l'umano. Grazie a questi incontri abbiamo imparato a percepire l'intensità e l'energia della poesia e ad abbandonarci alle sensazioni che essa suscita in noi. Vogliamo ringraziarla per la sua straordinaria energia, per la voglia di trasmettere e condividere con noi i suoi versi, per gli insegnamenti che ci ha dato, per la sua finezza e sensibilità nel rapportarsi con noi. La ringraziamo in particolar modo per la sua disponibilità nel venire nella nostra scuola e per averci dato la possibilità di imparare ad apprezzare non solo la poesia, ma anche lo spazio, il tempo, le risate e le sensazioni che abbiamo condiviso con tutti i partecipanti. Ci siamo ripromessi e lo facciamo di nuovo oggi davanti a lei che saluteremo la bellezza perché siamo nati, siamo importanti. Noi saremo un grande uomo, una donna grande saremo. Noi decideremo l'azione, l'ingiovanimento dei popoli. Saremo fratello e sorella, primavera che sciama nel vigneto. Con affetto tutti gli allievi del secondo N dell'Iceo Linguistico Niccolò Machiavelli. Buongiorno a tutti, noi siamo Giulia e Federica del Liceo Scienze Umane di Niccolò Machiavelli. Lalla Linda Libera Nemmeno nonno Mungo Emule Limpi dell'Arpa sono delle frasi con cui la potista Sorrentino è riuscita a farci interagire attivamente, coinvolgendoci attraverso un gioco che consisteva nel lanciarci una palla. La palla è metafora della poesia, passandola da una persona all'altra a costruito un ponte, creando dei legami. Questo è servito per farci capire che la poesia è anche divertimento e movimento. All'inizio eravamo un po' agitati, ma grazie al modo di sdramatizzare della poetessa e metterci a nostro agio abbiamo vinto l'imbarazzo scoprendo cos'è la nostra cattedrale. Una delle sue poesie che abbiamo letto e che rappresenta il luogo in cui viviamo. La luce che penetra dalla finestra è la poesia che ci illumina. All'inizio la luce viene rifiutata spostandoci, ma poi viene accettata. In uno dei suoi versi la poetessa scrive siate colonne quando vi solleverete l'uno verso l'alto il volto vostro esca dal marmo e torni qui dove ora siamo. E infatti siamo stati corretti molte volte sul nostro portamento perché è importante essere aperti agli altri e non assumere posizioni che non ci rendano delle colonne. Utilizzando questa poesia attraverso il suo aiuto le abbiamo dato ritmo collegandola a ogni movimento. Durante il primo incontro abbiamo affrontato temi storici e attuali. infatti ha fatto un paragone con la verità negata durante il nazismo tematica trattata nel libro di Bassani Il giardino dei Finzi Contini in cui è inserita la poesia Morì per la bellezza di Emily Dickinson con la verità negata oggi dall'ISIS capendo come sia importante cercare la verità e quindi la bellezza. Infine dopo essere stati proiettati nella poesia abbiamo capito il suo vero senso di bellezza e libertà. Ringraziamo con tutto il cuore che ci ha permesso di incontrare la poetessa Luigia Sorrentino la quale ringraziamo per l'esperienza che ci ha fatto vivere. La classe seconda B del liceo Niccolò Machiavelli. Grazie. Devo dire qualcosa. C'è ancora qualcuno. Caro poeta siamo tre ragazze del secondo D del Niccolò Machiavelli Scienzo Umane. Abbiamo partecipato agli incontri con la poetessa Luigia Sorrentino e in seguito a questi incontri la nostra classe guidata dalla professoressa Cirincione ha creato una raccolta di poesie ispirate alla potenza comunicativa della poesia. Tra queste ne abbiamo selezionate tre. Parole stracci di parole che mutano in versi i quali abbattono le mura poescenti del mio fragile cuore. Parole torrenti di parole che suscitano in me ricordi emozioni sentimenti che l'anima mia respinge. Parole universo di parole che mi fanno assaporare l'amore che mi trascinano nel dolore. Parole che mi rendono viva e presente. Parole infinità di parole che mi salvano dalla mia profonda solitudine che illuminano il mio inviolabile buio. Parole di salvezza in mezzo a fiumi di lacrime. Emozioni o poesia con te immagini parole sentimenti non lasciano le nostre menti poesia muovi voci e mani suggestioni che imprimono emozioni liberi anime che sentono suoni. A te ci aggrappiamo quando tutto sembra svanito in te troviamo il ripiglio in cui poter essere quello che siamo. fermo immagine sensazione di emozioni immortalate in una poesia momenti cicatrizzati si accumulano lì non è un semplice ricordo è un viaggio nel passato il battito cardiaco si accelera come quando vivivi quell'attimo in ogni dove carta, penna e scrivi e di improvviso la mano non finisci di scorrere su quel foglio tutto ciò che senti in quel momento è ormai un tatuaggio dipendenza di libertà lei caro poeta ormai nel tuo cuore ha inciso il suo nome applausi caro poeta ti vorremmo proporre alcune domande che sono nati in noi dopo due incontri a scuola con te infatti abbiamo provato ad approfondire il significato della poesia un modo di comunicare sempre attuale sempre attuale anche nei nostri giorni sarebbe interessante sapere inizialmente se tu ritieni che proprio tutti quanti possano fare poesia e scrivere in verso riprendi 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 calma ok o se invece pensi che questa sia una forma di espressione elitaria noi pensiamo poi che un autore per dare inizio a un percorso di questo genere debba davvero essere spinto da profonde motivazioni quali sono state le tue e quando scrivi tra ispirazione ed esperienze particolari della tua vita c'è un messaggio o un insegnamento che vuoi trasmettere scrivendo vorremmo anche che tu ci spiegassi quanto influisca la religione nella poesia moderna e nella tua in particolare inoltre che cosa pensi dei poeti contemporanei e dei loro testi a volte per noi diventa complicato comprendere appieno una poesia secondo te farsene spiegare i versi direttamente dall'autore è l'unico modo possibile per capirla fino in fondo ognuno di noi può darne una sua interpretazione personale grazie per l'esperienza la classe secondo O grazie posso dire qualcosa un minuto grazie ragazzi grazie non so dove siete vorrei abbracciarvi mi hai fatto delle domande alla fine è per me molto difficile rispondere ma risponderò una delle domande perché ho pochissimo tempo devo darlo agli altri colleghi che sono qui se solo un poeta può spiegare la poesia un poeta non può spiegare la poesia mai può aiutare semplicemente entrare nella dinamica della forma che quella poesia ha assunto quindi ragazzi scusatemi se ve lo dico alla presenza dei vostri insegnanti la poesia la poesia non si spiega nessuno ci può spiegare la poesia è qualcosa che deve entrare dentro di noi dal suono principalmente da quel ritmo che a volte non c'è dipende se è una poesia contemporanea può non avere un vero e proprio ritmo perché non è scritta in endecasillabi o in settenari cioè non ha una forma metrica però quello che è importante come vi ho detto prima è restituirci un suono è come quando da piccoli siete in culla vi cantano la canzoncina i genitori no? voi non sentite non capite il significato di quelle parole perché siete piccolissimi ecco di fronte alla poesia bisogna essere piccoli giovani quasi inconsapevoli e quando si è così praticamente la poesia vi arriva e raggiungerà il vostro cuore la vostra anima i vostri gesti i vostri sentimenti e le vostre emozioni grazie